Roma Capitale e poste italiane insieme per migliorare un'organizzazione complessa e al tempo stesso tecnologicamente arretrata come quella del Comune di Roma. A dirlo il Sindaco di Roma, Ignazio Marino, in visita presso la sede di Viale Europa, nel nono municipio dove si trova la direzione generale. Il primo cittadino ha ribadito l'importanza di creare una partnership e il fatto di avere una presenza nel nostro paese di un'azienda con un così alto livello di tecnologia e sicurezza spiegato non deve essere ignorato ma valorizzato all'interno del nostro Comune. Quello di poste italiane è un sistema di servizio aperto quindi adatto per interagire con altre infrastrutture e altri sistemi, ha sottolineato l'amministratore delegato di poste italiane Massimo Sarmi che illustrando la sede e il sistema tecnologico ha voluto evidenziare come, scegliendo le applicazioni che il Sindaco ritiene prioritarie, si possa sicuramente dare funzionalità in tempi ragionevolmente brevi.